Jamie Foxx, oggi parliamo di una notizia legata all'attore che interpreterà Electro in Spider-Man No Way Home Ho recuperato infatti una vecchia intervista di qualche mese fa su Jamie dove era stato intervistato su Soul, quel film d'animazione che lui ha doppiato, che è uscito a dicembre su Disney Plus e durante questa intervista l'intervistatore gli ha fatto una domanda appunto su Spider-Man No Way Home voleva un po' sapere giustamente il suo coinvolgimento nel film, quale sarà e più o meno di che cosa tratterà il film ma la risposta di Jamie Foxx è stata veramente secca e cruda l'attore ha infatti confermato che sul film non si può dire nulla, è completamente avvolto nel mistero la Marvel e la Sony ci tengono tantissimo a mantenere segretissimo tutta la storia, tutto quello che succede e lo stesso vale anche giustamente per il suo personaggio di Electro quindi non è uscito fuori niente e quindi perché vi porto questa notizia, visto che alla fine Jamie non ha confermato niente, non ha detto niente di importante vi riporto questa notizia perché secondo me si sta svolgendo un certo scenario che potrebbe ripetersi un po' come è stato per Endgame, ma anche altri film della Marvel l'idea è che i personaggi, gli attori che fanno parte di questo progetto potrebbero aver avuto dei falsi script significa che probabilmente gli attori che girano le scene a cui viene dato il copione non capiscono benissimo il contesto nella quale si trovano e quindi non sono ben informati appunto su quello che succede nel film per fare un esempio, la scena in cui in Avengers Endgame nel finale c'è il funerale di Tony Tom Holland pensava che quella fosse una scena legata ad un matrimonio e questo spiegherebbe anche il fatto che Tom Holland ha detto in più di un'intervista che di Tobey Maguire e Andrew Garfield lui non ne sa niente e che per quanto riguarda lui loro non sono all'interno del film però visto che comunque si sa che quando si realizza un film ci sono queste accortezze ci sono questi metodi per evitare spoiler e quindi ingannando addirittura gli attori stessi che lavorano all'interno di un film tutto questo ci porta a pensare che gli attori potrebbero effettivamente essere molto all'oscuro di tutto è anche vero che Jamie, parliamo di intervista legata a dicembre quindi nel corso di questi mesi le cose si saranno evolute avrà girato altre scene anche se insomma non sappiamo quando Jamie è stato sul set se ci deve ancora stare, se deve fare delle riprese aggiuntive chi lo sa, anche se diciamo che le riprese principali del film si sono ormai concluse però ragazzi in un film le riprese aggiuntive ci possono sempre essere quindi non è detto che non torni sul set Jamie o che ci debba ancora stare non lo so è un progetto veramente molto 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 segreto effettivamente non è fuoriuscito praticamente nulla per quanto riguarda la trama sappiamo soltanto che sono stati confermati Jamie Foxx come Electro e Molina come Octopus in teoria ma penso anche in pratica ora come sapete le riprese sono concluse quindi vediamo, vediamo se comunque esce qualche altro leak, se esce qualche altra notizia potrebbe essere dei mesi come ho già detto altre volte un po' vuoti potrebbe non uscire molto dato che comunque le riprese sono finite quindi tutto il lavoro si concentrerà in maniera molto privata insomma nella post produzione quindi tutto lavoro al computer possiamo dire ma vediamo perché qualcosa esce sempre fuori tra l'altro in questi giorni si vociferava la conferma ufficiale addirittura di Charlie Cox Daredevil ma vorrei aspettare ed essere sicuro vedere se altre fonti confermano la cosa per adesso sembra essere solo una voce quindi detto questo iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati su queste notizie vi ricordo che questa settimana il primo aprile e non è uno scherzo vedremo The Amazing Spider-Man lo vedremo diviso in due parti la prima parte la vedremo la mattina alle 11 la seconda alle 9 e mezza su Twitch evento però dedicato solo agli abbonati quindi ragazzi se non siete ancora abbonati a Twitch fatelo se avete Amazon Prime è anche gratuito quindi vi invito a farlo per supportare il canale Twitch detto questo ragazzi io vi saluto e ci vediamo prossimamente con altre news un ciao a tutti e alla prossima